Proviamo adesso una serie di esercizi di automassaggio per rinforzare e stimolare il flusso di C nel corpo. Vi ricordo prima di fare l'esercizio di lavarvi accuratamente le mani e di disinfettarle, in modo da non avere possibili problemi. Iniziamo strofinando le mani tra di loro, sia nella parte palmare tra le dita, sia nel dorso delle mani. Esattamente come quando ci si lava le mani. Quando le mani sono attivate, si sono scaldate in modo sufficiente, iniziamo ad accarezzare il viso. Sgombriamo le nuvole dal cielo. Massaggiamo le tempie. In un senso e nell'altro. Distendiamo naso e zigomi. Allunghiamo la mandibola. Allungando la bocca nell'aprire e guardando in alto, un po' come nell'urlo di Munch. In questo modo diamo distensione a un muscolo molto forte del corpo, che è il massetere, un muscolo che stringe la mandibola e quindi aiuta a distendere anche tutta questa parte. Dopo questo massaggio proviamo con le dita a stimolare le orecchie. e quindi con pollice indice tiriamo e pizzichiamo leggermente i lobi e il padiglione auricolare. Dopodiché passiamo le dita e le mani sulla testa come per accarezzare, come per pettinare. proviamo a smuovere il cuoio capelluto dal cranio, picchiettiamo in modo molto leggero tutta la teca cranica. e infine ancora accarezziamo la testa. Quindi accarezziamo il collo. Con i pollici massaggiamo la zona della nuca tra capo e collo. e quindi con una mano sosteniamo la nuca e la massaggiamo, mentre con l'altra mano massaggiamo il collo. La stessa cosa scambiando le mani. A questo punto appoggiamo una mano sul trapezio, l'altra mano fa da sostegno al gomito. massaggiamo con la mano al trapezio. Come se avessimo da guantare qualcosa in gomma. Quindi rendiamo il trapezio via via più morbido. ripetiamo anche dall'altra parte. Possiamo ovviamente ripetere più volte ognuno di questi esercizi. proviamo a tirare in modo leggero il braccio, l'avambraccio, dita dall'altra parte. Quindi al contrario, chiudendo il palmo della mano sull'avambraccio, flettendo il più possibile il polso dall'altro lato. E quindi scrolliamo di nuovo le braccia. Riprendiamo a strofinare le mani e con gentilezza portiamo la mano fino al petto e torniamo al palmo. Giriamo dietro fino alla scapola e torniamo. Con calma espiriamo andando verso la mano e inspiriamo risalendo. Bene. La stessa cosa dall'altro lato. inspiro, espiro, inspiro, espiro. E quindi passo da una mano all'altra. Bene, concludo questa prima serie di esercizi sulla parte alta del corpo con il movimento di base dove ci si avvolge con le braccia come se fossero un foulard di seta attorno alla vita e al tronco. Bene, grazie a tutti. Grazie.